Un'occasione per omaggiare lo sport cittadino e per riunirsi tutti insieme per affrontare il futuro sportivo giarrese. Si è svolto ieri sera al Parco Iungo di Giarre la Festa dello Sport, manifestazione fortemente voluta dall'amministrazione comunale e dal neoassessore allo sport Patrizia Lionti. Due ore di spettacolo volto a omaggiare tutte le realtà sportive già resi, dalle società sportive calcistiche a quelle di basket e volley, passando per le associazioni sportive di arti marziali e di corsa podistica. Un ideale abbraccio a tutte quelle persone che con sacrifici in mani, notti insonni e problematiche di ogni tipo hanno tenuto a galla una squadra o una palestra, convinto gli atleti a restare e a dare il loro massimo per raggiungere un obiettivo. Giarre e paesi limitrofi vivono di e per lo sport. Un bacino d'utenza imponente e una capillarità di associazioni e di squadre che fa invidia e che, se sfruttate a dovere, possono far diventare Giarre un punto di interesse a livello regionale e non solo. Presenti alla cerimonia il Giarre Calcio, il Calcio Giarre, il Basket Giarre e il suo CTT, Amici del Volley e New Image Volley Giarre, l'Etna Running e molte, molte altre società. Commenti positivi da parte dell'amministrazione che sperava nella partecipazione del pubblico giarrese che c'è stata anche se al di sotto delle aspettative. La strada da percorrere è ancora lunga. La festa dello sport rappresenta il primo passo ufficiale del Comune nell'intento di integrare tutte le anime sportive cittadine al fine di allargare la rete di fruitori per il bene di tutta la cittadinanza giarrese e non solo.